Quando è nato Google? Vi siete mai posti questa domanda, quando è nato Google? No? Strano, eppure lo usate tutti i giorni per cercare le cose. Tranquilli comunque, vi rispondo io. Quando è il compleanno di Google? Il compleanno di Google è... Um, era circa un mese fa. Ebbene sì, auguri ritardo Google. Il 27 settembre scorso infatti, Google ha compiuto 19 anni ed ha festeggiato con un bel donle. Il motore di ricerca più famoso del mondo, Google, è stato creato il 4 settembre 1998 da Larry Page, Sergei Brin. Ehi, ma aspettate un attimo, come mai prima ho parlato di 27 settembre e poi del 4? Tranquilli, c'è una spiegazione anche per questo. Dal 2005 infatti, Google festeggia il suo compleanno il 27 settembre, in onore al numero record di pagine indicizzate nel 1998. Ricapitolando quindi. Data creazione Google, 4 settembre 1998. Compleanno di Google, 27 settembre. Data registrazione dominio Google, 15 settembre 1997.